Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video, posto diverso e video inusuale. Vai, seguitemi! Ok ragazzi, non sono nel mio solito dojo, come vedete, ma sto passando un po' di vacanze, ma mi sto sempre comunque allenando in un posto un pochino più fresco, lontano dal mare della mia città. Sono qua, in mezzo a queste belle foreste e ho fatto una riflessione, sto facendo una riflessione e sulla scia dei peggiori maestri che abbiamo di Karate in Italia, chiaramente un video ironico, senza offendere nessuno, stavo pensando a una categoria particolare di maestroni ai quali gli ho attribuito un nome, secondo me, fantastico, i Baroni del Karate. Sì, i Baroni del Karate, vuoi dire, ma come maestri, ma ora perché anche nel Karate ci sono i baroni? Potrebbe essere un'idea, non so, il principe, il re, il baronetto, la principessa. Ci mancano però, dovremmo mettere un po' qualche stemma sul Karate, sulla giacca, oltre alle super cinture, guardate il mio video, vi lascio nella descrizione, il mistero della cintura nera. Anche, non so, attaccato a qualche cintura che magari ricorda qualche corpo forte di armata, qualche altro istintivo, non so, il Barone, il Duca, queste cose qua. E comunque, oggi mi voglio fermare sui Baroni del Karate. Diciamo, ma come maestri, Massimo, i Baroni del Karate? Sì, i Baroni, avete presente quei soggetti un po' su di età, capelli bianchi, normalmente. O li hanno pezzi come me, o hanno i capelli bianchi, no, quindi fate conto voi, vi do un indizio sull'età. Quelli che non lasciano mai il posto in queste federazioni, pseudo federazioni, di promozioni, organizzazioni private, non è un problema questo, questa è una questione politica, ma non vogliono lasciare il posto, cioè il presidente, il vicepresidente, il commissario, questo l'ho scoperto da poco, il direttore tecnico, quello che segue i giovani, quello che segue i vecchi, quello che segue i master, e sono tutti fantastici. I personaggi molto curiosi, capelli un po' sbaruffati, per chi ce li ha, questi impigiamati, sempre, non so, addirittura stirati, magari che c'è quel pantalone con la riga, la cintura super colorata, come va ora di moda in certe organizzazioni, e questi chimoni che non hanno mai visto una goccia di sudore. personaggi fantastici venuti, ah io facevo karate negli anni 60, anni 70, anni 80, dove chiaramente non è come oggi che ci sono testimonianze, video, foto, social, youtube, c'è di tutto, quindi se uno sa fare qualcosa, di solito lo mette su, o se ha un trascorso agonistico, si sa, se è visto cosa sa fare in gara, ma questi personaggi vivono un po' nell'ombra, no? se io facevo karate, come se fare karate, non so, 30 anni, 40 anni fa, ti dà un diritto, tu in automatico sei il grande super mega barone maestrone. Però poi alla fine nessuno ti ha mai visto i tuoi successi agonistici, nessuno ha mai visto cosa sai fare, perché di solito questi personaggi misteriosi, oltre a essere tipo piovra, che vogliono comandare su tutte le organizzazioni, su tutta la loro organizzazione, questi personaggi che non si fanno mai sentire, mai trovare, a volte neanche per telefono, non hanno, non si sa nulla di loro, sì, ho vinto un campionato, sì, io ero nella squadra di comitè, io ho fatto i campionati mondiali, i campionati italiani, internazionali, poi vai a vedere su internet non c'è niente, foto bianche, no, questo qui con i baffi, i capelli neri ero io, poi magari era il suo cugino, il suo fratello, il parente, il vicino di casa, c'è questi soggetti veramente curiosi, in Italia e all'estero sono i classici baroni, riconoscete, mi stavo dicendo prima, c'hanno dei karateki che non hanno mai visto una goccia di sudore, arrivano agli stage, ragazzi cominciate a correre, persone che non hanno mai fatto ginnastica, non hanno mai fatto vedere un passaggio di Qatar, di solito quando organizzano dei raduni degli stage, invitano il fenomeno di turno, il vero campione di turno, perché è giusto dargli il suo rilievo, ma loro non fanno nulla, fateci caso, stanno sempre nell'ombra, con tutti questi gradi, sopra gradi, barone, baronetto, principe, viceprincipe, e stanno sempre nei palazzetti, un po' negli angoli, con la loro bella panza, perché di solito andando su nell'età, e normalmente hanno anche la panza, hanno la panza, sta cintura che non si sa, se metterla sopra la panza, o sotto la panza, però dopo il karateki esce fuori, che sto karateki è sempre immacolato, a volte ora c'è anche delle sfumature d'oro, cosa avete mai visto, dei karateki nuovi, sfumature d'oro, poi c'è la sfumatura d'argento, si strisce qua sulle spalle, questi sono i baroni, i baroni sono fantastici, perché poi vogliono comandare su tutti, cioè te sei bravo nel fare il comitè nel Qatar, però ti hanno visto sotto le righe fare una caretta della parrocchia, l'altro mese, allora ti richiamano, no, te non puoi andare lì, come posso andare lì? Il sport è bello perché deve essere libero per tutti, uno deve andare dove vuole, non c'è nessun regime che ti obbliga di partecipare a una gara, a un'altra gara, no, non ci puoi andare, non ci devi andare, perché se ci vai ti buttiamo fuori, non hai fatto il corso aggiornamento, ora ti buttiamo fuori, non c'era l'ultimo stagio estivo, non c'era l'ultimo stagio invernale, allora non puoi fare l'esame, non posso fare l'esame, io sono preparato, ho le mie facoltà, ci sto dentro, credo nel karate, no, non puoi venire perché ti manca il timbro, ah, questo è il timbro del ducato, perché ogni ducato c'è il suo timbro, quindi c'è il timbro? No, non puoi fare l'esame, ma come io il kataos al fa maestro, di un anno mi sto preparando a bassa età, dobbiamo fare la cintura nera, no, 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 come no? E ti manca il timbro, e questo l'è scritto a matita, io una volta, mi ricordo, tempo fa, non faccio nomi, un'organizzazione, posso dire, con a capo dei giapponesi, questo posso dirlo, e una volta eravamo al classico pranzo di rito, dove chiaramente ti puoi sedere solo se si siede prima il maestrone, ti puoi alzare solo se si alza il maestro, cioè tutte cose un po' pseudo assurde, ma a quei tempi ero giovane e inesperto, mi ricordo che mi richiamarono all'ora del pranzo dicendomi, Serrao, attenti, comandi, vieni qua, sei stato richiamato alla segreteria, stavo lì mangiando il mio spaghetto, lascio tutto lì, vado alla segreteria, che cosa ho combinato, hai scritto in matita questa cosa, vabbè, ho scritto in matita, non sapevo, se mai mi sono sbagliato, c'ho la pena, oppure oppure di commettere un reato e essere incriminato per occultamento di cadavere, invece no, ho scritto a matita, e no, se è scritto a matita non vale, vabbè, prima una pena ho scritto a pena, no, non si può fare, perché il barone non vuole, vabbè, la penna, una matita, un pennarello, no, non si può fare. Allora ragazzi, questo è un video eronico, chiaramente non faccio nomi, per l'or di Dio, perché non è neanche giusto fare il nome, ognuno deve fare quello che vuole, però il pensiero di oggi è questo qua, secondo me lo sport deve essere libero, libero di praticarlo, ci devono essere delle regole, se entri in un'organizzazione e ci sono delle regole, le puoi sottoscrivere, quindi devi stare a certe regole, è giusto, però secondo me non bisogna eccedere su certe cose, cioè lo sport secondo me deve essere serio, ma deve avere anche, diciamo, delle tolleranze, cioè mi piace fare così, personalmente, poi ragazzi lasciatemi un commento, ditemi se sono andato un po' fuori di testa, ma non penso, o è il poco ossigeno che c'è in montagna, ma non penso, il mio pensiero è questo qua, cioè lo sport è essere un po' libro, nel senso io faccio tante gare con i miei ragazzi, giro l'Italia, giro anche l'estero, e vado dove mi voglio, cioè io chiamo di solito, c'è questa gara, posso venire? Certo Massimo, chiamo un canale, posso venire? No, perché devi avere certi requisiti, non so, tipi di assicurazioni, tesseramenti particolari, posso venire? Eh no, sarebbe meglio di no, ok, non c'è problema, non è che ora io odio certi personaggi, ma non vengo, va bene, la settimana dopo vado a un'altra gara, anche perché ormai in Italia, io faccio karate io tanti anni fa, anche io sono di quei baroni, anche io facevo karate tanti anni fa, anni 90, avevo vinto, e io mi ho detto poco e niente, poca roba, e mi ricordo che le gare erano solo certi tipi di gare, cioè c'erano due o tre parrocchie grosse ai tempi, grosse federazioni, qualche ente di promozione, gli altri erano un po' sperduti, non c'era poco e niente, vi sto parlando degli anni, beh, fine 80, inizi 90, quindi si parla più di 30 anni fa, e dicevamo, 30 anni fa cosa sono? Eh, sono tanti nel mondo del karate, in Italia, e oggi giorno praticamente con i social, con internet, lo sapete meglio di me, praticamente da inizio stagione, da settembre in poi, non vi dico ogni settimana, ma siamo lì, ogni weekend c'è una gara in tutta Italia, quindi secondo me, uno può andare dove vuole, con chi vuole, provare con nuove organizzazioni, provare con nuovi atleti, perché se si sta sempre sotto i circuiti, poi i tuoi antagonisti sono sempre quelli, invece cambiando città, cambiando palazzietti, cambiando ragazzi, competitor, un allievo può fare con altri ragazzi, con diversi ragazzi, provare diversi metodi di misurazione da parte degli arbitri, diversi tatami, diversi posti, fare nuove esperienze, fare nuove amicizie, lo sport serve più che altro anche a queste cose qua, io lo vedo come una cosa molto formativa, e quindi ogni settimana c'è la possibilità, quindi non bisogna se non è fossilizzarsi su troppo le parrocchie, c'è una gara, vengo, posso venire, sì sì, si regola, chiaramente con i certificati medici, quello che è la sicurezza, ma non troppo pissarsi sulle sigle, su queste cose qua, dove i super baroni comandano e fanno il buono e cattivo tempo, perché loro vivono di posteroni, mettono i loro foglioni di carta da tutte le parti, dentro il dojo, che poi non hanno neanche i dojo questi personaggi, se andate a vedere, poi alla fine sono tutti i hobbisti, chi fa karate dentro al ristorante, sposta i tavolini, c'è il ristorante della moglie, ma il saponicio senta a fare un po' di karate, c'è quello che poi lo lascio magari per un po' di disgraziato che fa, star mai fa un po' di karate in un cinema abbandonato, per l'altro la parrocchia del prete che gli dà la saletta dopo il catechismo, quindi poi alla fine, tutti questi baroni qua si coprono di distintivi nomi, nominette, nominoni, e poi alla fine sono tutti hobbisti, con tanto rispetto per chi fa l'hobbista, ma poi alla fine fanno così, cioè alla fine se andate a vedere, sono nella scuola dove sballuccica il neo, il rubinetto che perde, il puzzo di piedi, la gomma in terra, i piedi neri, il karate a 5 gradi d'inverno, insomma, le cose le sappiamo e le sapete meglio di me. Quindi ragazzi, andiamo alle conclusioni, e se mi avete seguito fino qua, lasciate i vostri commenti, se siete baroni non me ne abbiate, ma non me ne frega niente, se non siete baroni e la pensate come me, scrivetemi anche in privato, mi fa piacere perché è una guerra contro i baroni, ma è la guerra questa qua, chi si chiama guerra in maniera così, per ridere, è una piccola polemica, ecco, le guerre non vanno fatte, è una piccola polemica, per quelli che vogliono sempre ostruire, e mettere, diciamo, il becco, sulla pratica sportiva, leggera, spontanea, naturale, che devono avere tutti i ragazzi, senza passare dai grandi baroni, ok? Quindi ragazzi, lasciate un commento, se siete baroni non me ne frega n'cavolo, se non siete baroni, iscrivetevi, seguite il mio iter, il mio fare, che sicuramente non vi sbagliate. Ciao, un saluto al Tempio Massimo, io me ne sto al fresco, e poi voglio fare un altro video, ve lo mando un po' in anticipo, ho fatto un video, i peggiori maestri di karate, ma voglio fare i peggiori allievi di karate, vai, questo era il Tempio Massimo, ciao!